La polizia ha arrestato Di Benedetto Giovanni Pasqualino, Castelli Antonino e Ranno Pasqualino. Le indagini dimostrerebbero che Di Benedetto sarebbe in concorso con Castelli e Ranno l'autore dell'omicidio di un cittadino albanese del tentato omicidio di un altro soggetto italiano tuttora ricoverato, fatti avvenuti il 30 giugno in via Cantone Santo Nessima. Dalle ricostruzioni Di Benedetto avrebbe colpito con un'arma da fuoco il cittadino albanese, poi deceduto il 3 luglio e ferito con un ulteriore colpo d'arma da fuoco il cittadino italiano. Azione poi non ultimata sia per l'inceppamento dell'arma sia per la disperata reazione della vittima che si sarebbe lanciata dal balcone dell'appartamento, luogo dell'evento. I tre arrestati si trovano adesso in carcere e sono ancora in corso indagini per chiarire le motivazioni della sparatoria.